E' una palla che poteva darti un punto, alla fine la palla che ti crea problemi perché non riesce ad accosciarti verso quella palla. Eccolo qua, Mara, Verona, Padova, uno degli ex di questa sfida, Milano-Ricezione, la pipe che non passa con Vlodercik, un grande mono da parte di Milano. Brutta scelta da parte di Soji che alla fine stringe completamente il campo, è molto bravo Ishikawa invece a rimanere lì a centrale. Ci vuole per rallentatore, Ishikawa, palla che scende, ci va Soji, Danani in baghera, alza il pallone per l'attacco di Sterne, salvataggio di Sbertoli. Pisarese in baghera rovesciato, Mara cerca di tirare forti sul muro che contrasta, Sbertoli, la pipe di Ishikawa, difende Soji. Baghera rovesciato, a fil di rete di Vlodercik, salvataggio ancora di Sbertoli, tanta confusione, palleggia Sterne, primo tempo di Vitelli, salvataggio ancora. Scambio lunghissimo, Mara mette la palla giù sopra il muro di Vitelli e di Vlodercik. Molta confusione, scambio lungo. Più che altro Vitelli non ci ha creduto sul palleggiatore, lo rivediamo questa azione qui, doveva andare molto più veloce ed eventualmente cambiare, andare vicino al palleggiatore. Quando il palleggiatore va su con cinque dita, in salto, cambia, va in veloce. Matteo Piano sul 18-12, 6 di vantaggio per la squadra di Piazza, Soji. Primo tempo di Volpato, una grande defesa, una grande gestione di Milano, che poi attacca con Patré e arriva il punto numero 19. Questo è un punto conquistato molto bene dalla squadra di Piazza. Sì, sì, sì. Rivediamo questa grande difesa da parte di Mara, ben posizionato. Contraattacco di Patré, difesa e contraattacco al top per l'Allianz Milano. Ezzo e poi su Milano. Primo tempo di Vitelli, un grande muro, sta giocando molto bene a muro. Primo tempo ancora sporcato dal muro. Cosamernic, la giocata bella da parte del giapponese Ishikawa. Gran palla, gran palla Maurizio, bravissimo Sbertoli a spaccare in due. Guardatela, buon muro di contenimento da parte di Cosamernic e poi Pipe Bassa. Sbertoli, primo tempo di Cosamernic, ancora lui. Punto numero due per Milano. Controli in corsa, bravo da arrivare preciso all'appuntamento con questa doppia C. Si vede proprio che vuole attaccare verso il posto 5. Per una padova che adesso sta gestendo in questo secondo set dal Dello. dal Pipe di Basic, il punto per Milano è il numero 8. Torna Sbertoli, torna Patrì. Sì, dal Dello di nuovo una Pipe, una Pipe velocissima. Proprio un saliscendi pazzesco questa volta, interpretato al meglio. Attia Bottolo, tagliata quella palla, volo a Pesaresi. Sbertoli per Basic, un attacco a Basic con un grande diagonale questa volta. Sì, sì, Pesaresi. Pesaresi, Pesaresi parte su questa palla tagliata, un cutshot. Guardate che lo va a prendere su davanti a Jean Patry e poi diagonale stretta. Matteo Piano. Bottolo. Sterna, grande muro. Grande muro, molto bravo Cosamernic insieme a Ishikawa, punto numero 18. Palla molto bassa, molto dentro, rimane troppo nelle mani, lo rivediamo, poi non sfrutta al massimo. Ma questa volta le mani di Ishikawa entran dentro sulla territoria di diagonale. La certezza di alcune persone, alcuni giocatori positivi. Intanto arriva un grande ace da parte della formazione di Milano. Stesso discorso alla risposta dei tamponi per Verona. Quindi Verona-Piacenza, pure stata l'ultima partita rinviata, doveva giocarsi domani alle 18. E invece risponde Riccardo Sberto, lì su 4 metri. Ishikawa è bravo a bloccare. Pallonetto sopra Shishoggi. Ma si blocca, si talloni. Carello di Tuffi in allenamento per Vlodarcic, lo rivediamo. Terzo di rete, che se non fa muro che cosa deve fare se non andare a prendersi quel pallone? Continua invece l'ex. Grande servizio. Si salva come può a Padova. Non passa Ishikawa. Ci prova con questa pipe. Ancora un muro, copertura di nuovo per Milano. Mamma mia! Stephen Marr si è sfogato. Ha avuto una palla spettacolare. Ne vediamo precisa. Riccardo Sbertoli al servizio. Per lui sei anni titolare. Danani in bagare. Milan, due passi. L'attacco sul muro. Contenuto di nuovo. Vediamo la risposta. Sbertoli per Patry. In campo. Grande palla di Patry. Ventunesimo punto. Ormai Milano ha messo veramente da un po' la freccia. Sì, sì. Questa è una buona palla di contraattacco. Sbertoli che lavora veloce. Ma che da quella palla... Patry. Leggermente morbida Patry. Il coale riesce ad attaccare bene alto. Conto. Shoji. Pesaresi. Riccardo Sbertoli. L'attacco di Patry. Sblocca anche Milano con questo attacco del francese. Sì, un'ottima situazione. La rivediamo. Con difficoltà. Mette di traslocazione. Ancora Merlo. Su Pesaresi. Sbertoli. Primo tempo. Eccolo là. Lo mette dentro Leandro Mosca. Questo primo tempo. Il primo punto per lui. Era senza muro. Colpato se ne va via. Perché giustamente hanno detto. Caspita dopo una palla così. Gliela ridarà. Bravo Sbertoli. Sbaraglia tutti. Ishikawa ancora. Forte su Daneni. Shoji dall'altra parte per Sterl. Si affida a colui che ha reso di più. L'attacco di Marra. Ancora messa giù. Un bottolo che rimane in terra. Quarto punto per Milano. Sì. Sì. Problemi per Vlodarczyk. Nell'attacco di posto 2. Non è molto attivo. Attentissimo invece il muro. Muro dell'Allianz Milano che risponde bene. Merlo. Diamo la risposta con Sbertoli per Ishikawa. Il muro c'è. Di parla. Dall'altra parte prova con Patry. Difende Danani. Però nel campo di nuovo di Milano. Opportunità. Per Ishikawa. Pende in pieno Danani. Il punto numero 9 per la formazione di Roberto Piazza. Riescono a decomprimersi e soprattutto poi a trovare un attraverso di diagonale. spettacolare di Ishikawa. 12 lotto. Oh oh. Shouji. Per Stern. Piazza Stern. Però su Riccardo Sberto. Li pesarevi. Mesca di nuovo Ishikawa. Che ridono in Ishikawa. fanno bene perché gioca a diagonali, gioca a parallele. Sta facendo praticamente tutto Ishikawa. Il tredicesimo punto ad un passo dal match. Goditelo perché questa guarda che azione è un no look.